preferisci il caldo o l'estate in questo momento nella tua città com'è la situazione nella mia benevento è catastrofica si studia stando all'ombra si studia stando a londra manca lavapiatti e fa caldo fa caldo io amo l'estate attendo un anno intero l'estate come tutti ossia nove mesi praticamente però fondamentalmente è un anno e per chi odio il freddo non riesco a sopportarlo non riesco a conviverci dicono tutti quanti ma col freddo vuoi coprirti no io mi copro sì ma non tanto tanto quanto vorrei e mi puzzo sempre di freddo quindi pro a caldo e pro tantissime altre cose che non possiamo dire se no youtube mi cancella tutto ma volevo sapere cosa ne pensate sul caldo sul freddo come va nella vostra città che misure si richiedono come la vivete questa cosa io in inverno non riesco a vivere per fare i video alzate da letto giustamente ma anche in estate almeno che non vogliate farlo a letto ognuno può farlo giustamente e fa freddissimo dalla doccia quando esci non ve lo dico manco e sto fatto che devi metterti mille cose per uscire per l'inverno l'inverno come dico sempre a tre lati positivi che finisce che ai giubini quindi le tasche per mettere tutto e che mangi con più voglia perché devi riscaldarti ma in estate sì è figa ma quest'anno la sto modiando poi ci sono il zanzare e tutto ciò che ne riguarda e poi non si può manco fumare come si deve grazie a tutti grazie a tutti